Ciao ragazzi, sono Alex Hidria e voglio parlare di less is more Less is more, adesso sto sottolineando con la camera che sto usando per fare il video Quindi ho solo questa camera con me e un piccolo bagno Ma molte volte vado anche senza una camera E penso che less is more in ogni senso Perché con la camera che non è la ultima camera con molte funzioni E questo è meglio, perché ti costruisce a fare il più Con i modi che hai, con i piccoli modi che hai Quindi molte volte vado a usare camera che sono inutile E non sono considerate molto in questo momento E anche, credo che less is more Perché quando vado a usare camera e una camera Ho bisogno di lavorare in un certo modo Ma è anche facile, è più facile da lavorare Perché hai solo una camera e non c'è più E quindi lavorate con la luce E questo è fondamentale quando si tratta di fotografia Quindi less is more in ogni senso Per me è molto importante Per me è molto importante